Salve, questo ero io fino a qualche mese fa. Un uomo esausto, piegato dalla vita, anzi spezzato. Vedevo il mio domani fatto di scale impossibili da salire e sempre più oscuro. Ovviamente nessuna soddisfazione sul lavoro. E ancor meno nella vita sentimentale. Insomma, ero finito. Credevo di aver toccato il fondo. Finché un giorno mi accorsi che la soluzione a tutto era a portata di mano. Fu il giorno in cui conobbi Mario. Da allora la mia vita si illuminò. Così come tutta la mia sfera sentimentale. Persino la mia dieta migliorò. Meno stress e più tempo per godermi i pasti. Ovviamente una rivoluzione professionale. Nuovi contatti, nuove vitti lavorative. Insomma, con poco tempo e poca fatica raggiunsi obiettivi prima inarrivabili. Perché ora passo dove tutti gli altri si fermano. Quindi lo devo ammettere. Sono diventato Mario dipendente. Mario, clinicamente testato per migliorarti la vita. Attenzione, puoi indurre dipendenza.